mister ilenia nicoli peccato per il pareggio rimediato soltanto nel finale perché insomma stavamo per portare appunto una vittoria che poteva essere molto importante si diciamo che questa era una squadra che abbiamo studiato in settimana come sempre accade però era una squadra che temevo perché non è una squadra che merita i punti che ha e quindi non era certamente una partita facile abbiamo cercato di tenere il risultato fino a che abbiamo potuto abbiamo sbagliato 4 5 occasioni da gol che dobbiamo essere molto più brave a realizzare e purtroppo come spesso accade quando sbagli tanto con il gol prendi e così è stato per il resto che tipologia di partita restata appunto stavi sottolineando il fatto che le tante occasioni non sono state materializzate sì non sono state materializzate nel senso che soprattutto negli ultimi minuti abbiamo avuto tre occasioni da gol non abbiamo avuto la freddezza per ragionare a volte vogliamo calciare forte in porta quando invece è il momento di piazzarla e oppure un paio di volte abbiamo usato il piede destra invece di usare il sinistro come accade a chi non è mancino e questo accade però certamente un merito anche alla lazio perché è una squadra che ripeto ha comunque cercato di metterci in difficoltà e noi abbiamo provato a resistere anche la pressione molto forte che hanno fatto soprattutto gli ultimi 20 minuti nel secondo tempo che poi è stato dove è venuto il gol grazie mille prego